Vittorio, appena finita la medal, dove sei entrato in classifica secondo, ne esci quarto, immagino che tu sia non assolutamente soddisfatto, cos'è successo? Niente, siamo entrati in una medal un po' difficile perché eravamo in tante barca a giocarci il podio, quindi non potevamo fare una regata di controllo su uno o due avversari, ma purtroppo dovevamo fare la regata migliore che potevamo in quel momento, noi abbiamo fatto una scelta all'inizio che si è rivelata sbagliata, e lì in poi è stata una rincorsa continua per cercare di recuperare punti, ma non ce l'abbiamo fatta, non abbastanza. Sei ancora troppo deluso da come è andato per valutare nel compresso il campionato, ma il campionato ha dimostrato ancora una volta che sei lì, navigo in testa alla flotta regolarmente. Sì, navighiamo spesso in testa alla flotta, questa volta è andata male, di solito queste situazioni un po' difficili, siamo sempre riusciti a tirare fuori un risultato importante, oggi davvero ci abbiamo messo a tutta e non è stato abbastanza. Qual è la prima lezione che ti senti di trarre da quello che è successo da questo campionato? Niente, credo che abbiamo condotto il campionato da maniera giusta, non abbiamo mai mollato, siamo partiti male, da lì in poi abbiamo sempre cercato di fare il massimo, a volte va bene, a volte va male, se non sei una spanna davanti a tutti, gli errori li paghi ed esci dal podio, così siamo noi, siamo bravi, ma quando sbagliamo usciamo dal podio. Ti chiedo la sintesi brutale del voto, da 1 a 10, che voto ti dà in questo campionato? Sette. Ok, siamo d'accordo, bravissimo Vittorio, comunque, grazie mille.